La Proloco di San Martino in Rio organizza Ciccioli in Piazza, domenica 23 febbraio dalle ore 10 concorso per la produzione del miglior cicciolo, la sfida dei 120 paioli, inaugurazione delle terme del colesterolo, percorso gastronomico di alta qualità, inoltre artisti di strada, spettacoli per bambini, mercato ambulante con 200 bancarelle, domenica 23 febbraio Ciccioli in Piazza a San Martino in Rio.